buonasera allora stamattina non sono stata a casa perché per via di vari motivi papà è andato un attimo all'ospedale e io sono stata a casa di nonna e a parte quello adesso fino a poco fa stavo guardando un anime che si chiama pandora hats cioè il cuore di pandora sì vi consiglio di vederlo perché vero è un po malinconico però è veramente bello secondo me a parte quello adesso sto guardando un po' email contro te che è un video di quattro anni fa vabbè però che si chiama tre colori di colla slime challenge che si fa nel loro vecchio laboratorio e mi piace molto perché si diverte ci divertono tantissimo a parte il fatto che stavo guardando video e anime niente di che a parte il fatto che anche che ieri ho anche disegnato un disegnino aspettate che ve lo faccio vedere sempre se non lo rovino più che altro eccolo poi comincerò di nuovo a disegnare perché voglio rimettimi rimettimi in regola diciamo e devo anche ricordarmi di una di una sorpresina che ho fatto a mamma allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se volete unirvi all'asa family e noi ci vediamo domani con un nuovo blog ciao ciao